Eccoci qui, come state? Un saluto a tutti e ben ritrovati Un saluto da Milanello, la casa dei milanissi su YouTube Mi raccomando, commentate numerosi Lasciate un bel like per una bella vittoria col Bologna Tra una settimana più o meno a quest'ora E iscrivetevi qui, se lo avete ancora fatto siamo a Termina Anche non si iscriviamo a Inter, ama l'Inter o la Juventus Quindi fate la scelta giusta, mi raccomando cari rossoleri Siamo quasi 99.000, forse ci arriviamo oggi Sarai tu il numero 99.000 Colgo l'occasione anche per consigliarvi di partecipare gratuitamente al contest Per vincere la maglietta come questa Con nome, numero e autografo del giocatore che il vincitore sceglierà Ripeto, autografo quindi da incorniciare Come si fa? Bisogna far iscrivere almeno tre amici E scrivere il vostro e il loro nome qui sotto in un commento in questo video Più amici fate iscrivere, più commenti potete scrivere Più possibilità avete di essere estratti virtualmente Scatenatevi mi raccomando Allora, pare possa essere, sembra, dovrebbe essere così Spalletti il nuovo commissario tecnico Dopo il ribaltone di ieri con le dimissioni di Mancini Che a me non è piaciuto nella scelta Cioè doveva farlo prima e non aspettare che Avesse un'operta migliore Di fatto dimissioni, rinuncia dei soldi Ma andrà a prenderne molti di più Spalletti mi sembra l'uomo giusto, il posto giusto Sono molto curioso di vedere Insomma, che cosa potrà fare con la Nazionale Dopo la grandissima stagione del Napoli lo scorso anno in Serie A E vedremo appunto che tipo di commissario tecnico sarà Speriamo vincente È un tipo un po' particolare a livello comunicativo Io ho avuto a che fare spesso Anche con dei siparietti così Diciamo così divertenti Da una parte e dall'altra Vediamo appunto che cosa succede Ma vorrei leggervi innanzitutto Ovviamente il PC con il logo di Milanello Vorrei leggervi, scusate, innanzitutto Un tweet che mi ha molto colpito Poi Una situazione su Adli Ma parliamo anche di un ritorno di fiamma O meglio di un paio di ritorno di fiamma importanti Per centrocampo e attacco del Milan Prima vi rubo, credo, un minuto Un tweet di Felice Raimondo Che è molto attento ai discorsi economici Pillole mercato Milan 23-24 Diritti pluriennali aumentati di 90 milioni Rispetto all'ultimo dato disponibile Maggiori ammortamenti per 18 milioni Nella semestrale 31-12-22 Vi è stata una diminuzione di 5 milioni Proiettata sui 10 milioni al 31-23 Stipendi lordi aumentati di appena 4,7 milioni Questo dato mi colpisce davvero molto Grazie alla plusvalenza tonale La gestione del player trading I ricavi cartellini, meno costi cartellini È negativa di 8,8 milioni Una gestione di risorse eccellente Da parte Furani Ma anche una quarta settimana di mercato Milan potrà fare passi Non più lunghi della propria gamba Un modello gestionale iniziato 5 anni fa A ognuno il suo Milan Io mi tengo il mio modello a Milan Scrive lui Condivido Migliorabile soprattutto per le sessioni di riserve Che è un po' il nostro limite Un po' di tanti Ma in questo caso guardando il nostro articello È il nostro limite Cedere meglio gli esuberi Ma di grado lungo al più sano ed efficienti In serie a conti in ordine Patrimonio netto di 150 milioni al 31-12-22 In ulteriore aumento nel 2023 Lui scrive Abbiamo creato un solco con la concorrenza E se riusciamo ad avere lo stadio Quel solco diventerà una volagine Che in campo ancora non è visibile Ma lo sarà nel corso degli anni a venire Perché è successo quello dal campo È strettamente collegato a quello in campo Sempre e ovunque Quindi Per chi non mastica troppo numeri E bilanci Descrive una situazione Molto molto buona Direi straordinaria Dalla quale sicuramente Trarremo benefici E giovamento anche tecnico Vedendo anche quello che abbiamo fatto quest'anno Con una campagna acquisti molto importante Che non è finita qui E quindi molto molto bene Proseguiamo Voglio fare un salto nel team Adli Lui nella partita Che abbiamo commentato L'ultimo appunto Col Novara Ha fatto Vi do un po' di numeri 20 lanci lunghi 15 riusciti 113 tocchi Più di tutti in campo 91 passaggi Di cui 91,5% riusciti E numeri sicuramente importanti E chiaro che devono essere parametrati Come qualcuno mi dice Anche al tipo di avversario Se fai questi numeri Con Real Madrid Sei un fenomeno Se li fai con Novara È vero che non ha avuto possibilità Di giocare con Real Madrid Anche con altre squadre Di media bassa classifica Se non qualcuna In Serie A Ha esordito Dal primo minuto contro il Verona Unica partita titolare Il team Adli È sempre molto denso Di partecipazione Di membri E io dico una cosa A lui viene contestata La mancanza di intensità E anche un fisico Che non gli permette Di giocare ad alti livelli Però l'anno scorso Fine del campionato Non ha giocato mai Ha creato Quell'eventola A casa sua Tutta rossonera Quel partico Per compagni E famiglie Poi Quest'anno Credo fosse Ciucquezze Si dice Chi mi sta aiutando di più Ed Lee Dopodiché Ieri Ha pubblicato un post Scrivendo Ovunque Tu sarai Io ci sarò Con I cuori rossoneri In riferimento Al Milan Un grande milanista Uno di noi di Milanello Uno di noi di Milanello Perché è davvero Un grande rossonero E soltanto per questo Meriterebbe di stare ancora Nel gruppo Con un po' più di spazio Scherzi a parte Vedremo l'evoluzione In ogni caso Un ragazzo serio Con la testa sulle spalle Che è entrato Ed è diventato comunque Una figura importante Per lo spogliatoio E nonostante la giovane età È uno che fa gruppo Non dice mai nulla Di fuori posto E poi È tanto milanista Il Milan Gli è entrato Ci sono certi giocatori Che magari restano qui più anni E se ne vanno così Da una sponda all'altra Dell'aglio Per 500 mila euro Ogni riferimento Puramente casuale Altri che sono qui da poco Non hanno quasi mai giocato Potrebbero dire Non mi fanno giocare Sono arrabbiato Invece Sprizzano milanismo Ad ogni situazione Dunque grande Ad lì Poi Un doppio ritorno di fiamma Diciamo che il Milan Vuole un centrocampista È un numero 9 Vuole fare diverse cose Ne parleremo magari In un video Anche per la rubrica Milano lo risponde Sulla community Trovate il post Scatenatevi con le vostre domande Per la rubrica Milano lo risponde Risponderò appunto Alle vostre domande A centrocampo Attenzione Un ritorno di fiamma Poi parliamo di discorso attacco Per Jordan Veretout Che è stato In un paio di situazioni Molto vicino al Milan Lui ha 30 anni Francese Alto 1,77 Gioca nel Marsiglia Con cui un contatto Iscadenza nel 2025 Ha già giocato 23 minuti In Ligan Recentemente L'anno scorso 38 gare 4 gol e 3 assist In Ligan E' uno che tira anche i calci piazzati I calci di rigore L'ultimo anno in Serie A 36 partite 4 gol e 8 assist Non male L'anno prima 29 partite 10 gol e 2 assist Era andato in doppia cifra Nella stagione 20-21 Dalla Fiorentina Lui era andato alla Roma C'era anche il Milan In quel momento Si era parlato anche poi Di un ritorno di fiamma Ma il giocatore poi E' andato al Marsiglia E potrebbe essere Davvero l'uomo giusto Da piazzare lì in mezzo Non è un nome altisonante Me ne rendo conto Però potrebbe essere Un giocatore molto funzionale Che ha 6 presenze Con la Francia Anche se ormai E' uscito dal giro Da nazionale francese E ha esperienze In Europa League Credo non Sì in Champions Quest'anno ne ha fatte 6 Comunque 30 anni Mi sembrerebbe Un stato sicuro Milan torna a pensare a lui Vediamo se può essere lui Appunto l'operazione Di fine mercato Personalmente Non mi dispiacerebbe Chiaro mi piacerebbe Magari più Un 24enne 25enne In rampa di lancio Può diventare molto forte Lui potrebbe avere un senso Piace tra l'altro E' sempre piaciuto Alla precedente dirigenza Ma anche a Moncada Che comunque L'aveva segnalato più volte A livello di referenze In quanto comunque Lo scouting Non va a vedere Soltanto i giovani Gli algoritmi Non guardano Soltanto i giovani Ma gli osservatori Guardano anche i giocatori Fatti e finiti E anche Perché no Trentenni Vediamo che cosa succede Potrebbe essere Un'uscita dal Marsiglia E un'idea A questo punto interessante Ci spostiamo là davanti Per quanto riguarda L'attacco Dove A oggi Abbiamo Giroud Colombo Oreghi In quest'ordine Nel video precedente Vi dicevo ragazzi Oreghi che non vuole andare via E' un problema E' un problema serio Quindi Speriamo si riesca a trovare Una sostemazione E che lui soprattutto Si decida ad andare Perché qui Non è più Un giocatore gradito Credo Un po' a tutti Sicuramente Ad AC Milan A Pioli La dirigenza Ebbene Nel video precedente Vi avevo dato L'aggiornamento su Lukaku Che resta Questa pazza pista Di fine mercato Se Lukaku Negli ultimi giorni E' ancora lì Allora davvero Il Milan Può provare a prenderlo Alle proprie condizioni Quindi presto oneroso Con una parte Di l'ingaggio Pagata dal Chelsea E' chiaro Che se però Consensi Tutte le tue energie Su Lukaku E poi Lukaku Nel frattempo Va via Rimani un po' Col cerino in mano Ci sono Diversi nomi Di uno Avevamo già parlato Visto che oggi Ha trovato anche Conferme Altrove Non è lui Il ritrovo di fiamma Il nome di Ugo Che potrebbe essere Anche lui Oggi il PSG Che è dei 20 Ma siccome alla fine Lo dà in prestito Un'operazione Piaceva molto Moncada Già da qualche anno 21 anni Francese Alto un 89 Scadenza con il PSG 2027 Ha fatto 8 minuti Nell'ultimo turno Il primo Con il PSG Lo scorso anno 3 gole 4 assist L'anno primo Lo Stad Rams 10 gole 4 assist Giocatore che ha 52 gare 13 gole 8 assist In Ligan Numeri non straordinari Però caratteristiche Che piacciono molto Che possono essere funzionali Per il tipo di gioco E soprattutto Per fare un po' L'alternativa A Giroud Si può ragionare Su un prestito Con diritto di riscatto Con il Milan Che quindi Eventualmente Lo può comprare Se fa bene Il prossimo anno Giocatore Che un anno fa Avrei visto Con gli occhi a cuoricino Al Milan Quest'anno Dico Vabbè Piuttosto che niente Le mie piuttosto Si dice da mia parte Cioè piuttosto che niente Meglio piuttosto Non so dalle vostre Quindi Magari In un contesto diverso Può Il PSG è molto complicato Per tutti Soprattutto c'era una concorrenza Anche importante In un ambiente comunque Davvero Conflittuale Magari qui può fare bene C'è un altro nome Che è Un ritorno di fiamma Di lui Abbiamo parlato sicuramente Due anni fa Su questo canale Quando era 19enne Abbiamo parlato anche Lo scorso anno E Certi amori Fanno dei giri immensi Poi ritornano Un po' È successo anche Per altri nomi Ebbene Il nome in questione È quello di Armando Broia Albanese 21 anni 1,91 È un giocatore Che arriva Da un problema Molto serio Che è il crociato Vediamo vedere Appunto Le sue Statistiche E poi vi do I dettagli Di questa possibile operazione Lo scorso anno Lui fa 12 presenze 1 gol e 1 assist L'anno prima 32 presenze 6 gol e 1 assist L'anno prima ancora Al Vitesse 30 presenze 10 gol e 2 assist È uno quindi Di che In Premier League 45 partite 7 gol e 2 assist Non straordinari In redivise 30 partite 10 gol e 2 assist Non male Anche perché era molto giovane 21 anni Ne farà 22 Il 10 settembre Quindi un anno in più Rispetto a C'è però Un però Che anche qui Mi ha provato a prenderlo Nelle ultime due sessioni Di mercato In vano Perché il giocatore È rimasto lì Era stato pagato Anche non poco Dalla Chelsea Il problema Che Vado subito A recuperare anche la data Di questo Di questa situazione Armando Brogia O Broia Che dir si voglia Si è fatto male Vi do la data Si era rotto Il crociato Credo fosse dicembre Ma adesso Vi do la conferma Era Sì A metà dicembre Quando tra l'altro Era anche lì Norvitaminam Per gennaio Rottura del legamento Crociato Del ginocchio sinistro Infortunio grave E quando Un infortunio del genere Non sai mai Come torni Soprattutto La prima stagione Rischi un po' Di regalarla Guardate quello Che è successo Ad esempio Con Chiesa Quindi Ecco Piuttosto che Niente Piuttosto Però In questo caso Mi sembrerebbe Un azzardo Grande 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 In Inghilterra Quelli che vicino Al Chelsea Dicono che Minan lo ha chiesto In prestito Con diritto Di riscatto Il Chelsea È un po' Combattuto Vorrebbe da una parte Tenerlo L'altra parte Magari Farlo partire Di fronte Magari A nuovi innesti Lui Lui era forte Per caratteristiche Era forte Però Ragazzi Arriva dal crociato Va bene tutto Però Sono crociato a dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Sei mesi Adesso Credo che Si stia allenando Vediamo se era in panchino Oppure no Però Ragazzi Non lo so Ecco È una scommessa È davvero È davvero Un azzardo Incredibile Perché rischi di avere Un giocatore Comunque ancora Un po' Fragilotto Non lo so Vediamo se è stato Convocato No Non è stato convocato Quindi è ancora un po' Ai box Vediamo che cosa succede È chiaro che c'è Il sogno Per quanto mi riguarda Lukaku Qui mi scrive Sesco È vero Però Sesco È molto più difficile Da prendere Perché Il suo club Al momento Non lo vuole vendere Anche se piace molto Almeno non ha avuto contatti Col suo entourage Direi poi Tra Kittiché E Armando Broia Per l'integrità Metterei un gradino Sopra Kittiché E secondo Broia O terzo Visto che il primo Per quanto mi riguarda è Lukaku Possono essere Dell'opportunità Mi sembra che quella di Broia Possa essere proprio L'ultima spiaggia Ma perché è un giocatore valio Sì Però dopo il crociato Non sei tu E la prima stagione La butti via Ecco Avere oro in quella stagione lì Secondo me Non è cosa buona e giusta Ma ditemi il vostro parere Scatenatevi qui sotto Mi raccomando E fate iscrivere tre amici Per provare a vincere la maglietta Non vi costa nulla Al nostro canale YouTube ovviamente Con nome, numero e autografo Magari anche con dedica Se ci riusciamo Iscrivetevi voi Chi non si iscrive Ti fa la seconda squadra di Milano O quella di Torino Sicuramente I milanisti si iscrivono Vi rimando al video precedente E ragazzi Vi aspettiamo anche sulla chat Telegram Dove siamo tantissimi E si parla quotidianamente H24 Graduitamente ovviamente Di Milan Fatemi la vostra lista Tra i tre Io dico Luca Quichettiche E Broia Un saluto Grazie a tutti